Ciao ragazzi, oggi cosa dobbiamo? Oggi abbiamo il libro di legno di Playtime Bravo di Playtime Junior, oggi amici miei giocheremo con questi Dai tre, affettate, ai 10 anni, ci sono 35 pezzi E come si chiama? Sì, una pista cascada Cascada, sì, una scada Ma che cos'è in spagnolo? Esatto, abbiamo 35 pezzi, 6 palline, 35 Sono biglie, bravissimo biglie Dai 13 anni, voi cosa dobbiamo dare? Io, io lo sei Tu? 19 Anche io parlo Proggia? Sì, c'è un coltello Guardate Uh, che belle le biglie, guardate Facciamo già la mia pista Sì Ma io voglio fare la pista qui Eh, facciamo questa pista qui No, non dobbiamo seguire, mai le istruzioni Ma facciamo il video che possiamo fare, su Aspetta, facciamo la nostra ciancianica Va, non fate la nostra ciancianica Sì, capire? Capire Tutti fuori, tutti fuori Prima li tiriamo tutti fuori, poi compriamo Io vedo facendo la mia pista Allora, biglie La cosa si sa, Simone? Ecco la pista qui È nervosa, eh? Sì, non serve Un attimo No, dobbiamo fare tutto insieme Dobbiamo andare in proposta Ma, io dico un attimo Eh, ma non è che ci stanno duecento tente? Se ne sono 35, bisogna fare una piccola Vieni, 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 vieni Hai capito? E voi ci deve lasciare un altro Vieni, vieni, vieni Ma qui, tu vuoi? Vieni, 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 vieni Ah, vediamo se riuscite a fare Guardate, guardate Questa vengo dopo, questa vengo dopo È la dodo Ah, vuoi provare? Sì Provandolo a fare la pista insieme Vediamo se riuscite, dai io lo faccio proprio con le mie bifie ma vabbè Pietro ci serve questo qui? il campanello allora con il campanello il campanello il campanello ma cosa vede insieme? cosa diceva Pietro? vediamo che cosa viene fuori ma Pietro non mi dice cosa fare Pietro ti promuovo capo costruttore no aspetta vedete che lavoro su capo costruttore dica ai dipendenti cosa devono fare vi faccio un pezzo di questi qua ma anche lui vuole costruirlo lo faccia apposta io la vorrei provare la mia cosa? la mia pista ma non è finita se Simone non ti dà la mano ma voglio solo provare se funziona questo pezzo no no quando è finita la proviamo quando è finita la proviamo allora Simone prendi un pezzo e collegalo e collegalo con questo con questo poi prendi questo poi prendi questo qui Christmas ok finit si sono finita si sono in più questi pezzi? non mettete qualcosa qui? ah si si dov'è la campanelle? perchè la campanella è lì? bravissimo vediamo se avete fatto un buon lavoro qui la pallina mica passa qua c'è il buco ah si? vediamo ah no io sto aiutando mi piace qua bravissima ok vediamo se avete fatto un buon lavoro ho un po' palline ok pronti? ovvio ottimo lavoro una altra pista una altra pista scusate mi cominciamo la guarda capo? capo costruttore? si vediamo il prossimo video mi raccomando seguiteci e mettete mi piace ciao bambini ciao ciao bambini no mi distrugge il gioco no cosa? ho prima di distruggerlo ci possiamo giocare? con la speed turbo la pista super veloce apriamola allora adesso vi devo fare un test per farla prima dobbiamo prendere la pista la più veloce ok facciamo il test ma cosa fai? vediamo ok vediamo la pista da tre anni in su ma quella non va ma non è che non vai che tu non la fai utilizzare perché questa è la mia moto vedi? vedi guarda si illumina anche quando va ma se si illumina fallo al contrario al contrario no al contrario non va si invece però non va veloce come la mia o è la mia? vai via fai vedere quanto sei più bello ferma da me grazie vediamo se lei si può prima fare il quarto portale non lo vuole fare prova con questa se lo fa vuoi che mi sia caduta tutta la pista prova con questa prova con questa vuoi fare cambio? dai riprova vai posso? guarda che giro della morte ti faccio fare devi farle due volte ma veloce forte forte come va? guarda guarda 1 2 3 boom è una pericola morta vediamo se si riesco anch'io aspetta fai provare anche me non va ah si? e ora boom vediamo che riguarda no non ho più la moto bene io per questo video allora visto che non ho più la moto vi saluto vi vedo al prossimo video mettete tanti mi piace ciao 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 ciao